Dieci anni fa, al CERN di Ginevra, dopo più di 50 anni di ricerca, veniva scoperta finalmente una particella che tutti attendevano e che è fondamentale per la nostra comprensione dell'universo, il bosone di Higgs. All'epoca la particella è stata scoperta da due esperimenti indipendenti, Atlas e CMS. All'epoca, alla guida di questi due esperimenti, c'erano due italiani, Fabiola Gianotti, che attualmente è il direttore del CERN, e Guido Tonelli. Oggi è qui con noi Guido Tonelli. Benvenuto Guido. Allora, Guido Tonelli è un fisico, oltre ad essere fisico al CERN appunto, è professore di fisica all'Università di Pisa. Ha ricevuto molti premi di prestigio, tra cui il Breakthrough Prize, che è un premio importante per la fisica fondamentale, il premio Fermi, e insomma tanti altri, e ha scritto anche tanti libri. In particolare, la nascita, il primo libro, ricordami, La nascita è perfetta delle cose, che racconta proprio la grande avventura della scoperta del bosone di Higgs, un bel racconto dal punto di vista umano e scientifico, e poi ha scritto Cercare Mondi, Tempo e Genesi. Oggi Guido Tonelli ci parla del bosone di Higgs. Guido, innanzitutto, questa particella, che cos'è? Perché è stata così difficile scoprirla? Sì, buongiorno a tutti intanto. Sono passati dieci anni, mi sembra ieri, in tutta onestà, non mi sembra neanche vero. Se ricordo quei momenti ho ancora la pelle d'oca, ma stiamo parlando di una scoperta che non è normale. Ci sono tante particelle in quello che chiamiamo il modello standard, che descrive i componenti elementari della materia, cioè quark, leptoni, che costituiscono questo palco, una stella, le ali di una farfalla. Il bosone di Higgs è una di queste particelle, ma gioca un ruolo fondamentale, gioca un ruolo speciale. E la scoperta di cui stiamo parlando sarà ricordata nei libri di storia e di fisica per decenni, forse per secoli. Non sto esagerando, perché, diciamo, per millenni l'umanità ha dato per scontato che ovunque ci sia della materia, c'era della massa. Io vado al mercato, prendo un chilo di patate, faccio una misura di fisica, misuro la massa delle patate, pago la massa di un chilo di patate, mi metto su una bilancia, vedo che sto ingrassando, che arriva l'estate, sono preoccupato. È un'altra misura di fisica, la mia massa. Ed era implicito in tutti i sapienti, in tutti gli scienziati, in tutti i filosofi, dai grandi sapienti del mondo classico fino ad Einstein, che la massa fosse una proprietà intrinseca della materia. Newton capisce per primo che la massa è la sorgente della forza gravitazionale, quindi è una rivoluzione. Cioè due corpi che hanno una massa messa a una certa distanza si attraggono con una forza che è inversamente proporzionale al quadrato della distanza e proporzionale al prodotto di queste masse. La legge di gravitazione universale è una rivoluzione concettuale, ma ancora Newton pensa che la massa sia proprietà intrinseca della materia. Einstein dice che massa e energia curvano lo spazio-tempo. La relatività generale è una delle concezioni più avanzate che l'umanità abbia potuto sviluppare. La mente più immaginifica e più fertile di sempre vede la massa come elemento che curva lo spazio-tempo, quindi l'elemento materiale che curva lo spazio-tempo e questa curvatura la chiamiamo gravità, ma ancora considera la massa, che è equivalente all'energia e uguale a mc quadro, come proprietà intrinseca della materia. Fino a che un gruppo di giovani, negli anni Sessanta, cercando di risolvere un problema che veniva fuori dalla costruzione di questo modello standard delle particelle elementari, e ha dovuto affrontare di petto la questione che cos'è veramente la massa. Uno dei pilastri del modello standard è che la forza elettromagnetica, quella che ci permette di vederci o che vi permette di ascoltare le mie parole attraverso l'amplificazione di questo microfono, e la forza debole, quella che è responsabile di alcuni decadimenti nucleari, fondamentali, fra i quali anche che permettono anche il funzionamento delle grandi stelle, compreso il Sole, queste due forze sono la stessa forza. Il modello standard delle particelle elementari funziona se questa forza, che si chiama forza elettrodebole, una parola nuova, unità di elettromagnetismo e di forza debole, sono la stessa forza. Ma c'era da capire, c'era da spiegare come mai una forza, quell'elettromagnetica è portata da particelle prive di massa, i fotoni, che vanno giusto appunto alla velocità della luce, le particelle di luce, per definizione, perché sono prive di massa, mentre le forze che portano la forza debole sono pesantissime, sono le forze portate da particelle massicce, quelle scoperte da Carlo Rubbia, i W, lo Z, le chiamiamo, sono oggetti che pesano quanto 80, 90 protoni, estremamente massicci, e sono così massicci per cui il loro raggio d'azione è minimo, e sono talmente massicci che muoiono sulle distanze subnucleari, la forza debole non la vediamo nel mondo ordinario, perché è estremamente confinata per il fatto che i portatori della forza debole sono così massicci. Cos'è che rende W e Z così massicci e il fotone rimane privo di massa? Sono la stessa forza, perché c'è questa differenza di massa? Che cos'è la massa? Vedete, negli anni 60 ci si pone dopo 2500 anni il problema centrale, ma cos'è veramente la massa? E la soluzione che danno Braut, Tengler, Higgs, questi tre giovani fisici teorici che allora avevano una trentina d'anni, è una concezione rivoluzionaria. La massa, dice, non è una proprietà intrinseca, è il risultato di una dinamica, cioè la massa nasce dall'interazione. Nell'intero universo c'è qualcosa che non vediamo, che non sentiamo, che è in odore, che è in colore, un campo che si chiamerà campo di Higgs con cui le particelle elementari virtualmente prive di massa interagiscono e a seconda della forza di questa interazione, vedete la dinamica, interazione più forte, particella più pesante, interazione più debole, particella più leggera, interazione nulla, particella priva di massa. Teoria che viene sviluppata nel 64 ma che fino a che nel 2012 non abbiamo scoperto il portatore di questo campo, la particella responsabile di questo campo, il bosone di Higgs, non poteva essere verificata sperimentalmente. Quindi vedete, è come se l'umanità avesse di colpo cambiato pagina, no? Ora sappiamo cos'è la massa, ora dobbiamo riscrivere i libri di fisica, ora dobbiamo raccontare una storia diversa, ora sappiamo che il nostro mondo, il mondo in cui viviamo, che è fatto di materia aggregata, fatta di nuclei, di protoni, di neutroni, intorno a cui ruotano gli elettroni, ecco, se voi modificaste leggermente questa interazione delle particelle elementari, dei quark e degli elettroni con il campo di Higgs, questo mondo svanirebbe, sparirebbe, non potremmo avere materia aggregata e stabile su tempi di miliardi di anni se non ci fosse questo meccanismo delicato che assegna alle particelle elementari una massa così specifica. Ecco, allora come vai il titolo di questo tuo libro, La nascita imperfetta delle cose? Beh, il titolo allude al fatto che se si torna, ora possiamo raccontare una storia che risale a 13,8 miliardi di anni fa, i primissimi istanti di vita dell'universo. Abbiamo scoperto il bosone di Higgs, abbiamo misurato la sua massa, in termini tecnici diciamo è 125 jev, ignorate le unità di misura, è 125. Se conosciamo la massa di una particella siamo in grado anche di capire in quali condizioni di temperatura questa particella può essere libera, perché io non posso andare al mercato e comprare un chilo di bosone di Higgs perché è troppo freddo. Quelle particelle così pesanti in un universo freddo, ora voi ignorate il fatto che c'è stata un'estate caldissima, che c'è un novembre ancora che sembra primavera, per particelle di quella massa ci vogliono temperature che si misurano in milioni, centinaia di milioni di gradi per essere libere, per scorrazzare tranquille, altrimenti congelano. Quando la temperatura va al di sotto delle temperature mostruose che richiedono queste particelle per essere libere di scorrazzare tranquillamente, congelano, congelano nel campo che occupa l'universo intero. Ecco perché abbiamo dovuto scaldare la materia attraverso queste collisioni di alta energia, attraverso LHC, facciamo collidere brandelli di materia, quark, gluoni e in queste minuscoli porzioni dello spazio si creano localmente delle temperature talmente elevate che per un istante si crea un ecosistema favorevole alla fioritura di bosoni di Higgs. In quell'istante, in quella piccola porzione, le temperature sono così elevate che i bosoni di Higgs rifioriscono, ritrovano un attimo di vita libera. Subito dopo muoiono, decadono in altre particelle, ma siamo abbastanza veloci da poter vedere i risultati di questi decadimenti e quindi riconoscere la particella madre. Nascita imperfetta delle cose perché le cose nascono da questo meccanismo, dal meccanismo di Higgs che rompe la perfezione originaria. Quindi voi immaginate nei primissimi istanti subito dopo il Big Bang l'universo che ha dimensioni diciamo dopo l'inflazione un pallone di calcio grosso modo 20 centimetri è già un oggetto macroscopico ma se voi foste lì a guardare questo pallone pieno di tutta la materia e l'energia e la massa dell'universo attuale quindi immaginate le condizioni di questo oggetto non riconoscereste nulla vedreste un pulviscolo incandescente di particelle prive di massa che viaggiano alla vicino della luce ma questo oggetto assomiglia un po' all'essere parmenideo è perfetto perché dovunque lo guardi c'è la stessa densità è tutto esattamente fatto di oggetti identici è un oggetto in cui non ci sono oggetti organizzati ma in quanto tale è in tutte le dimensioni una specie di prototipo della perfezione è l'uovo primordiale l'atomo primordiale di Lemaître ma se il nostro universo fosse rimasto quell'oggetto perfetto non saremo qui a fare questa chiacchierata si è dovuto rompere quella perfezione la perfezione che rendeva le interazioni assolutamente simmetriche l'interazione elettromagnetica e quella debole erano assolutamente sullo stesso piano non avrebbe permesso all'universo di prendere la via che ha preso cioè di costruire una struttura materiale persistente si è rotta la perfezione abbiamo guadagnato in molteplicità cioè le particelle sono differenziate ci sono dei quark leggeri e dei quark pesanti quelli pesanti non possono costruire materia stabile quelli leggeri sì in questa maniera rompendo la perfezione costruendo differenza costruendo molteplicità si è ottenuta stabilità tre quark leggeri gli up e i down organizzati fra loro tenuti insieme dalla forza forte dopo qualche minuto formano il primo protone quel protone è ancora qui è con lui la quantità immensa di protoni che costituiscono la materia quel protone lì è una struttura talmente geniale che ha una vita media che supera di miliardi di miliardi di volte l'attuale vita dell'universo cioè sono qui ancora fra di noi i nuclei dei nostri atomi sono protoni e neutroni prodotti in quei primi istanti si rompe la perfezione nasce la materia organizzata che può prendere forme persistenti quindi può produrre neutroni protoni atomi stelle galassie pianeti giù giù fino a noi insomma viaggio vertiginoso all'origine dell'universo su quale ci sarebbe molto da discutere magari riprendiamo la discussione più tardi con le domande ma adesso vorrei chiederti adesso che sono passati dieci anni dalla scoperta del bosone di X all'inizio erano poche particelle tutti entusiasti di averle trovate ecco che cosa sappiamo oggi di più su questa particella sappiamo molto ma sono molte anche le domande che sono venute fuori e quindi questa è forse la cosa più interessante perché ora noi siamo usciti un po' dai riflettori dalle luci della ribalta perché quando ci sono le grandi scoperte c'è la grande attenzione mediatica poi di colpo diciamo fortunatamente il nostro lavoro ritorna ai ritmi ordinari ma questo non vuol dire che non stiano accadendo cose importanti questa è la cosa che vi voglio dire perché questo perché sta succedendo che dopo una prima occhiata a giro mettiamola così cioè in cui si è visto che questa particella ha caratteristiche simili a quelle previste dai tre teorici Braut e Gler X non a caso i due sopravvissuti hanno preso il premio Nobel perché abbiamo dimostrato che la loro teoria era corretta essenzialmente però via via che si accumulano dati e statistica ora la sfida è misurare con grande precisione le caratteristiche di questa particella e più lo facciamo e più siamo intrigati perché? perché questa particella è strana è molto strana è la più strana delle particelle è per certi versi la più semplice delle particelle se io devo dire se io devo disegnare una particella elementare per un bambino la disegno così la disegno esattamente come è fatto il bosone di X e cosa c'ha di strano? è che è una particella scalare questo cosa vuol dire? vuol dire mettiamola così in maniera un po' figurata se uno immagina che una particella abbia una componente materiale per quanto infinitesima per quanto puntiforme se questa componente materiale ha una sorta di intrinseco momento angolare lo chiamiamo spin cioè come se la sua materia ruotasse su se stessa in qualche modo questa particella diciamo ha uno spin intrinseco che ha valori interi o frazionari nel caso del bosone di X non c'è questa situazione lo spin è zero e questo la rende particella scalare ora qui c'è una questione fondamentale perché? perché questa particella deve seguire le leggi della meccanica quantistica come tutte le particelle allora le particelle che hanno uno spin intero o frazionario sono protette da meccanismi di evoluzione della loro massa che ora è un po' difficile da spiegare però ve lo posso riassumere così intorno a una particella elementare se voi la poteste immaginare non dovete immaginare che non ci sia nulla è rivestita ricoperta da un continuo turbinio di particelle virtuali che vengono estratte dal vuoto e che ritornano nel vuoto specie di fantasmi che contribuiscono alla massa della particella allora nelle particelle che hanno uno spin intero frazionario quindi che non sono scalari c'è un meccanismo intrinseco di protezione per cui queste particelle che hanno una massa che ne so di 80 90 Gev come lo Z e il W la loro massa rimane quella questo meccanismo non funziona per le particelle scalari nelle particelle scalari il diciamo il mantello di particelle virtuali che le circonda non ha nessuna protezione quindi le leggi della meccanica quantistica ci dicono una particella scalare come il bosone di X dovrebbe avere una massa che diverge cioè che cresce che diventa ingestibile perché non cresce la massa del bosone di X perché rimane 125 Gev allora l'unica possibilità è che insieme alle particelle conosciute che si aggirano intorno al bosone di X che sono le più massicce che sono i W che sono i top che sono le particelle cariche che conosciamo molto massicce ci deve essere qualche altra particella che le cancella di segno opposto che agisce quelle tendono ad aumentargli la massa le altre particelle tendono a ridurre la massa mi seguite? ma queste particelle non sono comprese nel modello standard non ci sono non le conosciamo non ci sono altre particelle che potrebbero proteggere la massa del bosone di X quindi vedete noi ci abbiamo di fronte un dilemma un dilemma i casi sono due o questa particella non è elementare quindi per ora noi pensiamo che sia elementare vuol dire che non ha una struttura interna però nessuno ce lo garantisce potrebbe avere una struttura interna e se avesse una struttura interna il modello standard crollerebbe come si fa a scoprire se è una struttura interna la produciamo ad alta energia producendola ad alta energia gli diamo quello che si dice c'è un boost c'è una spinta vediamo i prodotti di decadimento è un po' il vecchio esperimento di Rathfor se ha una struttura interna la distribuzione angolare dei prodotti di decadimento è particolare è specifica la riconosciamo se non ha una struttura interna se è veramente puntiforme la distribuzione angolare è quella diciamo canonic oppure è una particella scalare può darsi che ci siano altre particelle che la proteggono da quei meccanismi di divergenza della massa queste altre particelle sono previste da alcuna teoria ma finora non le abbiamo scoperte quindi i casi sono due o vengono fuori altre particelle che proteggono i bosoni di Higgs da questo problema da questa contraddizione oppure c'è qualcosa di più profondo che non capiamo oppure può succedere ancora che ci siano altre particelle scalari che sia non una particella anomala ma che sia la prima di una serie di particelle di famiglie un'intera famiglia di parcelle scalari che fra l'altro spiegherebbero altri fenomeni quindi vedete quello che sta succedendo al CERN in questo momento si cercano dati per misurare con grande precisione le caratteristiche del bosone di Higgs perché ci sono troppe cose che non capiamo nel frattempo può darsi che si scoprono altre particelle le particelle supersimmetriche o particelle che indicano extra dimensioni che di colpo potrebbero dar conto di queste contraddizioni oppure potrebbe anche darsi che questa prima scoperta di una particella scalare sia la scoperta di cugini di una famiglia di fratelli di altre particelle scalari che potrebbero esserci sfuggite perché non le abbiamo cercate attenzione bisogna fare anche qui una forse una breve digressione cioè una particella non è che la trovi così la trovi seguendo una traccia cioè devi avere un'idea di quello che chiamiamo la sezione d'urto cioè la probabilità di produrla devi avere un'idea di quanto è larga questa particella devi avere un'idea di in che cosa decade quali sono i prodotti di decadimento allora stiamo facendo tutto questo ricominciando da CAP quindi al CERN quello che succede in questo momento al di sotto fuori dai riflettori è un lavoro interessantissimo in cui si trovano decine centinaia di anomalie anomalie sono potenziali segnali e quotidianamente e settimanalmente queste anomalie vengono cancellate da studi più accurati sono errori statistici sono cose che non capiamo ma il giorno in cui una di queste anomalie sopravvivesse allora sì avremo un'altra scoperta che forse renderebbe anche la scoperta del bosone di X qualcosa di triviale e di meno importante bellissima grazie grazie Guido per questo affascinante viaggio veramente tu ci dimostri come quanto più si guarda nel dettaglio quanto più si spacca il capello tanto più si scoprono cose nuove interessanti io vorrei chiederti molto velocemente prima di lasciare la parola al pubblico anche e riassumendo tutto questo da un altro punto di vista se vogliamo perché curiosamente si va a guardare nell'infinitamente piccolo e si come dire si ritorna delle problematiche che riguardano l'universo intero e quello che vorrei chiederti quali sono le grandi domande della cosmologia della scienza attuale alle quali queste ricerche possono dare una risposta sì ci sono diciamo una serie di questioni imbarazzanti la nostra ignoranza è enorme è imbarazzante per esempio dover riconoscere che conosciamo qualcosa del 5% della materia totale dell'universo e che il 95% ci è completamente sconosciuto fatto di materia oscura e fatto di energia oscura quindi che cos'è la materia oscura che tiene insieme ecco vedete io ora ho preso una manata di materia oscura qui dentro c'è particelle diciamo che sono le stesse che contengono la nostra galassia che permettono la nostra galassia di non disperdersi la stragrande maggioranza della massa e della trazione gravitazionale della nostra galassia che la tiene insieme come tutte le galassie è fatta di qualcosa di cui vediamo gli effetti gravitazionali ma non abbiamo più palle idea di cosa sia in effetti che tipo di particelle sia la compongano energia oscura questa questa espansione accelerata dell'universo per cui tutto si allontana da tutto lo spazio-tempo sta espandendo e si è a una velocità crescente che cos'è è una proprietà dello spazio-tempo che non abbiamo capito è un'antigravità come nei film di fantascienza qualcosa che spinge tutto lontano da tutto non abbiamo la più pallida idea è un'altra delle grandi questioni l'inflazione cosmica questo meccanismo per cui una bollicina primordiale una fluttuazione quantistica del vuoto qualcosa di estremamente semplice naturale è diventato un universo materiale l'inflatone è uno scalare è una particella che assomiglia al bosone di X qualcuno dice potrebbe essere il bosone di X qualcuno dice potrebbe essere il bosone di X in compagnia di un suo cugino che ha prodotto l'inflazione cioè ci può essere una famiglia di scalari fra i quali potremo trovare la particella responsabile dell'inflazione cosmica cioè quella che ha prodotto questo rigonfiamento mostruoso della particella di schiuma quantistica che ha dato origine al nostro universo sono questioni diciamo aperte e ovviamente i due campi cioè il campo dell'infinitamente piccolo quello in cui lavoro io il campo delle particelle elementari e il campo in cui lavorano gli astrofisici o gli astronomi quelli che osservano gli oggetti più grandi che mente umana abbia concepito gli ammassi di galassie e l'universo intero i due campi procedono separati ma quello che è stato finora incredibile è che i risultati dell'uno e degli altri vanno a braccetto sono assolutamente compatibili e quindi ora noi non sappiamo dove avverrà il breakthrough cioè dove avverrà la scoperta che cambia il paradigma potrebbe avvenire domattina con un ragazzo una ragazza indiana o italiana o cinese che facendo la sua tesi di dottorato scopre un nuovo scalare nei dati di LHC e che magari è responsabile dell'inflazione o potrebbe avvenire fra una settimana quando qualcuno analizzando i dati di Virgo o di Laigo potrà trovare la maniera di scoprire sotto il rumore di onde gravitazionali gli strumenti con cui potremo forse indagare l'inflazione cosmica attraverso le onde gravitazionali fossili diciamo non sappiamo quando succederà sappiamo che succederà sappiamo che succederà nei prossimi decenni sicuramente anche se non sappiamo dire quando e sappiamo anche che la scoperta sarà dovuta a una nuova generazione di ragazzi e di ragazze che troveranno dei nuovi metodi e delle nuove teorie e dei nuovi strumenti con cui indagare la natura a questo punto rimane qualche minuto e lo lascerei per le domande del pubblico c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa Guido Tonelli sicuramente all'inizio c'è sempre un attimo di imbarazzo nei confronti di temi così grandi però non abbiate paura ecco abbiamo una domanda ma perché l'hanno chiamato particello di Dio per bellezza o c'è qualcosa dentro no no è stata chiamata così per motivi commerciali per vendere un libro l'editore di un libro famoso di Leon Leatherman che è un premio Nobel che aveva intitolato il suo libro La dannata particella dannata perché era difficile da scoprire il motivo perché era difficile a scoprire è che la teoria non prevede la massa quindi quando una teoria non prevede la massa di una particella per noi sono guai perché devi fare l'ipotesi che la massa possa essere esageriamo cioè tu cerchi un animale e non sai se è un virus o se è una balena è chiaro che cercare un virus è molto diverso che cercare una mosca è molto diverso che cercare una lepre o cercare una balena ecco così è un po' per noi non sapevamo assolutamente qual era la massa e per ogni massa ci sono metodi specifici maniere di produrlo diverse maniere di decadere diverse caratteristiche diverse dell'oggetto quindi questo ha fatto sì che fosse molto difficile ma l'editore di fronte alla proposta di titolo la dannata particella ha storto il naso ha detto no non mi piace in inglese è the god dam diciamo quindi lui ha levato il dam ed è rimasto the god particle con l'idea che god è una delle cinque parole più conosciute al mondo e si sarebbe venduto un sacco di copie in effetti è successo così e d'altro canto effettivamente forse non è un caso che veniva chiamata così questo termine ha avuto un grandissimo successo quando nessuno sapeva cos'era il bosone di X tutti la chiamavano la particella di Dio per far capire di che cosa si parlava oggi che bene o male tutti sanno cos'è il bosone di X se ne viene citata un po' meno questa particella tant'è che oggi finora non ne avevamo ancora parlato e c'è un'altra domanda un'altra domanda lì davanti ah c'era sì ah mi scusi buongiorno buongiorno no volevo sapere se in molte interviste tu una delle preoccupazioni o comunque delle speranze è che gli scienziati non fossero lasciati soli in tutte queste scoperte perché la mente umana arriva fino a un certo punto c'è bisogno anche di altro c'è bisogno di filosofia volevo sapere se in questi dieci anni questa cosa è successa oppure è solo un auspicio no è ancora un auspicio diciamo quello a cui si riferisce Laura Piazzi che forse conoscerete per i suoi programmi radiofonici è questo che gli scienziati noi stiamo spingendo la conoscenza ai limiti e si continua a fare progressi il cammino della scienza è piuttosto rapido vedete il metodo scientifico garantisce alla scienza un passo piuttosto veloce e io quello che dico sempre su cui insisto sempre uno dei motivi per cui mi piacciono queste cose mi piace raccontare queste cose a tutti e condividerle non tanto divulgare quanto condividere con la mia comunità le cose che abbiamo che stiamo facendo perché queste cose avranno un impatto sulla società sul futuro su di voi sui vostri figli sui vostri nipoti come è sempre successo quello che fa la scienza ha comunque un impatto notevole sulla cultura e sulla tecnologia di un'intera epoca la segna in profondità e segnandola la cambia in maniera decisiva allora perché oggi sarebbe utile e io insisto su questo che si discutesse di queste cose si conoscessero diciamo che tutti conoscessero queste cose e se ne discutesse e non lo facessero sono solo gli scienziati perché voi vedete le sfide che abbiamo di fronte come società sono sfide in cui la scienza dovrà comunque giocare un ruolo ma non si può chiedere alla scienza di decidere tutto no? cioè ci sono delle cose che si possono fare e altre cose che non si devono fare ci sono delle cose direzioni in cui si può andare ed altre in cui è bene non andare no? l'idea di una società senza limiti è una follia allora chi è che può decidere dentro una comunità cosciente no? diciamo cosa è giusto cosa è sbagliato se vale la pena insistere in una certa direzione o è bene essere cauti e fermarci no? solo una comunità consapevole in cui ci siano insieme scienziati filosofi artisti gente comune consapevole delle sfide e anche diciamo delle possibilità delle potenzialità potrà diciamo ergersi e aprire una discussione estremamente importante non lasciamo cioè questa cosa non va lasciata né agli scienziati né tantomeno agli oligarchi diciamo che gestiscono i grandi mezzi di comunicazione o i grandi le grandi quantità di capitali cioè guai a una società in cui non ci fosse consapevolezza di queste cose dove sta andando la scienza e cosa ci sta dicendo e che non sapesse costruire intorno a questo una discussione e una scelta ovviamente questo non può essere lasciato agli scienziati e per questo penso che bisogna insistere sul fatto che ci deve essere consapevolezza e partecipazione di chi ha uno sguardo lungo cioè uno storico un filosofo uno che ha visto tutti gli errori del passato va bene con questo intervento anche molto opportuno chiudiamo questo incontro con Guido Tonelli grazie Guido per essere stato con noi grazie a voi grazie a tutti